C'era una bianca strada, polverosa, tutta sola in mezzo alle strade asfaltate. C'erano anche strade asfaltate e avevano siepi verdi attorno alle curve. C'era una luna quasi piena, guardava il mare, scuro e tranquillo. C'era anche il sole, dorava la piazza e i vecchi muri degli edifici. Tutto era tiepido e dolce, come se mente e natura si fossero messe d'accordo. Ma anche le lacrime erano tiepide, quando l'autobus è partito. Il momento in cui ci si lascia è come un grande albero d'inverno. Un albero spoglio, coi rami imploranti, la corteccia nera di disperazione. Forse verrà l'accetta, ne farà una catasta di legno morto. Il momento in cui ci si lascia è come un grande albero d'inverno. Forse le gemme spunteranno sui nodi, sulla punta dei ramoscelli. E si apriranno in foglie verdi, in fiori profumatissimi, in frutti. Non credo che le cose andrebbero meglio se non finissero. Se non portassero in sé fin dall'inizio la paura della fine. La nostalgia che ne avremo quando saranno finite. Non credo che ci servirebbe molto sapere, ad esempio, che non moriamo. Che rivedremo sempre lo sguardo che ci ha messo in pace col mondo. O la parola o la mano di quel particolare attimo di felicità vissuta. Le siepi sono tutte lavate. Ma la strada senza asfalto è piena di fango. Le automobili fanno schizzare l'acqua sporca dalle pozzanghere. Sono andata in piazza, mi sono seduta al caffè, ho chiesto, ma nessuno ti aveva visto passare da molto tempo. Ho guardato gli orari, sono andata vicino alla pensilina, ma l'autobus è arrivato vuoto. C'era solo una ragazza e un vecchio. Questa è una poesia di Joyce Lusso. E naturalmente questa sera parliamo di lei. Una donna che è stata grande ed è grandissima per quello che portiamo dentro d'intriso di lei. Io sono molto grato a questa amministrazione che mi ha permesso di tributare a lei questo ricordo. E sono felicissimo di avere persone che hanno condiviso con lei molti attimi controversi. Lei è una persona strana, dicono. Io invece credo che sia stata ed è una persona grande, una donna grande. E questa amministrazione per il secondo anno mi dà la possibilità di parlare delle donne grandi. e non delle donne che festeggiano l'8 marzo in un certo modo, insomma. Adesso, dopo questo momento di sfogo che penso mi sia permesso, dico che la serata sarà condivisa con il mio nato gruppo del Centro Studi Joyce Lusso, scusate l'emozione, e da Marcello De Venuti che presenterà un lavoro fatto apposta per ricordare Joyce. Io spero che questa occasione sia il modo anche per ricordare la figura di Joyce Lusso e quindi cercheremo di essere portatori della sua biografia, ma anche di forte testimonianze, perché credo che tutta la gente che è qui non è venuta a caso. Vi ringrazio e do la parola a una componente del Centro Studi, che è Luana Trappè, che tracera appunto la biografia di questa straordinaria donna. Ti prego, Luana. John Silusso nasce a Firenze nel 1912 da Vigli Salvadori, proveniente da una famiglia di ricchi possidenti di Porto San Giorgio e docente di filosofia all'università, e da una gentildonna inglese, Giacinita Galletti, buona disegnatrice e pittrice. Negli anni venti i genitori, perseguitati per la loro fede antifascista, emigrano in Svizzera, dove Joyce frequenta la Fellowship, una scuola internazionale basata sui principi della non violenza e della tolleranza. Ogni tanto ritorna in Italia, per distribuire stampa antifascista ai compagni di giustizia e libertà o visitarli in carcere e al confino, per sottoporre al filosofo Benedetto Croce le sue poesie. Talvolta si ferma nelle marche per sostenere gli esami di maturità, abitando nelle case dei nonni, a Porto San Giorgio o a San Tommaso di Fermo. Nel 1930, poiché la sua famiglia è in precarie condizioni economiche, per guadagnarsi i soldi per l'università, va a Benghazi come istitutrice presso una famiglia italiana. Si iscriverà poi all'università di Heidelberg, dove si guadagnerà da liberi insegnando francese in un collegio per signorina di buona famiglia. Ed è proprio ad Heidelberg che Hitler, nel 1932, fa il suo ingresso nella politica con un grande raguno. Dopo un nuovo viaggio in Africa, Joyce conosce finalmente Emilio Lussu, di cui tanto aveva sentito parlare dai genitori, un personaggio ormai diventato leggendario fra i giovani antifascisti. Durante una sua visita al fratello Max, i confinati di Ponza le avevano affidato un messaggio segreto da recapitati personalmente. Si incontrano a Ginevra e si innamorano. Poiché ambe e due sono rivoluzionari militanti, le loro vite clandestine e separate permettono solo brevi incontri. Ma sempre Joyce si preoccupa di rendere accoglienti e festose le povere stanze in cui si trattengono qualche giorno, come quella di Monterland, di cui vi leggerò un ricordo. Arrivamo senza bagagli, poiché avevamo viaggiato clandestini. Con frenetico attivismo pulì e lustrai l'unica stanza meglio che potevi, imbastì in un cuscino pieno di paglia col mio foulard di seta e confezionai una sorta di abasur attorno all'unica lampada, col pizzo della mia sottoveste. Corsi fuori alla ricerca di fiori selvatici e fronide, li aggiustai in ogni recipiente o barattolo che riuscì a trovare. E infine, dato che Emilio non era ancora tornato dalla passeggiata, disegnai su una parete con un pezzo di carbone due cavalli con la criniera spiegata. Quando Emilio tornò con una fascina di legna secca, stavo studiando una maniera inedita di attorcigliarmi la chioma sul lato della testa. Io accesi il fuoco ed Emilio uscì di nuovo per cercare, con l'antica esperienza dei pastori sardi, erbe e bacche commestibili che arricchissero il pane, il formaggio fresco e il burro salato che avevamo portato dal villaggio. Trovò cicoria e lattughella selvatica, gambie e fondi di cardo, crescione di sorgente, germogli di lupinella. Con questi ingredienti imbandì un pranzo memorabile di cinque portate. Eravamo molto emozionati. Nel 43 Joyce viene incaricata dai partigiani di raggiungere il meridione liberato dai tedeschi per prendere contatto con il governo provvisorio e trattare la questione della monarchia col ministro Benedetto Croce. Per la sua militanza antifascista riceverà poi la medaglia d'argento a valore militare. Nel 44 Joyce è in attesa di un figlio e si sposa con Emilio Lusso a Roma appena liberata dai tedeschi. Dopo la fine della guerra si dedica alle campagne elettorali riclamando a gran voce la partecipazione delle donne ai comizi e alla vita politica. Di questo periodo è anche l'incontro con il paese di Emilio Lusso, la Sardegna che diventerà la sua seconda terra come si legge nell'Orivastro e l'Innesto. Negli anni 50 e 60 gira tutto il mondo visita i paesi socialisti, Cuba, l'Unione Sovietica, la Cina, l'Albania partecipa attivamente ai congressi mondiali per la pace. In uno di essi conosce Nazimi Kmet che le fa scoprire l'esistenza di una poesia del tutto diversa da quella che formava il bagaglio della sua cultura umanistica occidentale. Da quel momento Jones inizia un'esperienza di traduttrice atipica come la stessa dice in quanto traducevo poeti da lingue che non conoscevo affatto turchi, curdi, esquimesi, angolani. Il desiderio di conoscere personalmente questi poeti che sono quasi sempre interpreti dei problemi del proprio popolo la spinge negli anni 60 ad attraversare vari paesi del terzo mondo dove viene a contatto con i guerriglieri africani dai movimenti di liberazione anticolonialista con i curdi iracheni e turchi. Negli ultimi anni della sua vita Jones ha continuato a spostarsi per tutta l'Italia tessendo contatti e insegnando storia nelle scuole. La sua residenza di San Tommaso è stata centro di irradiazione di una stregua militanza per l'acquisizione dei diritti e della libertà per la pace e la salvaguardia dell'ambiente. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Mi chiamo. e a tutti. grazie a tutti. mi parli. Venne fuori. venne fuori. e a tutti. venne fuori. venne fuori. e a tutti. 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 c'è un paio. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti. e tutti. e a tutti. e tutti. e tutti. avanti. siamo tutti. e tutti. sono quasi. e tutti. e a tutti. e 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 tutti. e... e tutti. e tutti. e... e tutti. e tutti. e... e tutti. e... e tutti. tutti. e 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 tutti.